Write what you know o scrivi ciò che sai è uno dei primi consigli che vengono impartiti agli scrittori in erba, nonché uno dei più travisati. Ma cosa significa esattamente e come se ne fa uso? Vediamolo insieme. Ciao a tutti, sono Giuseppe Chiodi, autore, blogger e coach narrativo. Per chi non lo sapesse o chi non se lo ricordasse il mio blog è immersività.it e oggi parliamo di Write what you know, cioè scrivi di ciò che conosci. Una regoletta che viene letta spessissimo, viene detta spessissimo da tantissimi insegnanti scrittori di scrittura creativa, autori ad altri autori, lo ho sentito una marea di volte ed è una regola che spesso viene travisata perché in realtà sembrerebbe avere un significato ma potrebbe benissimo averne un altro. Quindi per questo volevo parlarne oggi in questo video perché è molto meno banale di quanto possa sembrare, anzi può provocare delle interessanti riflessioni sull'argomento, quindi parliamone. Prima di tutto dobbiamo dire che questa regoletta, questo adagio, alcuni lo attribuiscono a Mark Twain, probabilmente in realtà è dovuto a Hemingway, in particolare a una lettera di Hemingway. Molte persone hanno cominciato a intendere questo adagio in un modo diverso rispetto a quello che intendeva Hemingway stesso. Prima di tutto Hemingway non ha lanciato veramente un messaggio in quella lettera, la lettera, il passaggio della lettera ce l'ho qua, e in realtà parlava di se stesso, cioè diceva io ho avuto successo per credo di aver avuto successo, vediamo come stava scritto, qualunque successo se l'abbiamo mai avuto è stato perché ho scritto ciò di cui conoscevo, ciò che conoscevo bene insomma. Quindi in realtà non è che ha lanciato una regola o un messaggio a qualcuno, stava semplicemente parlando di se stesso. È chiaro che è facile vedere scorgere in una frase del genere comunque un insegnamento adatto a tutti o quasi, perché ha senso, è chiaro, non è un caso che questa regola continua a cicciare fuori e si continua a parlare di questa cosa, soprattutto quando si ha a che fare con autori alle prime armi, è uno dei primi messaggi che vengono trasmessi agli autori alle prime armi e molti di questi attori lo trovano scoraggiante perché c'è sempre questa credenza che è diversa rispetto al messaggio originale. C'è chi crede che scrivi di ciò che conosci significhi, scrivi di quello che conosci appunto e basta. Cioè, per esempio, sei un medico, scrivi di questo e basta. Oppure sei una persona che, che ne so, ha fatto per tutta la vita pugilato, scrivi di una storia, in una storia, inserisci questo elemento e basta. E non trattare ciò che non ti compete. È come dire, se non sei mai stato, se non sei mai andato in guerra, non parlare della guerra, per dire, no? Questo è uno dei, anzi, forse è l'interpretazione maggioritaria del messaggio di Hemingway, ma in realtà non è così, perché nella stessa lettera Hemingway specificava, diceva questo. Parlando di un romanzo, ha detto, ha scritto, il primo si riteneva che fosse una sorta di romanzo alla Tom Jones. Ma c'è un'ottima, un'ottima chance che io non sappia ancora abbastanza di ciò per scriverne. Yet, cioè non ne sappia, non ne sappia ancora, non ne sappia al momento abbastanza. È chiaro, è implicito che ciò che intendeva Hemingway è che quando lui dopo, subito dopo ha scritto qualsiasi successo ha avuto, è perché scrive ciò di cui conosco, è che ciò a cui si riferisce, cioè ciò che Hemingway conosce, è qualcosa che ha imparato. E infatti parla di questo romanzo alla Tom Jones dicendo che non ne sapeva abbastanza al momento, ancora, yet, ma che forse in futuro quindi avrebbe, si sarebbe abbastanza documentato in modo tale da scriverne. È chiaro, quindi in realtà la frase stessa di Hemingway da cui è tratto l'adagio ha una sfumatura leggermente diversa di significato, ma fondamentale perché ci fa capire che in realtà il significato di ciò che ha scritto Hemingway è non scrivi di ciò che conosci e basta, cioè non scrivi della guerra solo se hai fatto la guerra per esempio, ma conosci ciò di cui scrivi, cioè se vogliamo in realtà c'è un ribaltamento, cioè tu ti devi documentare, devi fare delle ricerche, devi conoscere bene, devi conoscere profondamente ciò di cui parli, ma il che significa che puoi farlo, che puoi conoscerlo, che puoi documentarti, non che semplicemente deve essere qualcosa che ti appartiene a prescindere insomma perché magari fa parte del tuo percorso di vita, perché è qualcosa che padroneggi da sempre. È chiaro che in qualsiasi ottica si pensi, è chiaro che, che ne so, un fisico quantistico, se parlerà di questo argomento in una storia avrà un enorme vantaggio su un profano dell'argomento, è chiaro, della materia, no? E magari se questa materia addirittura parte integrante dell'intreccio, ma a un livello molto profondo, cioè che magari stiamo parlando di un romanzo di fantascienza in cui la fisica quantistica è la chiave dell'elemento fantascientifico, è chiaro che il fisico quantistico avrà un grosso vantaggio, però è altrettanto chiaro che in questa interpretazione dello scrivi di ciò che conosci, chiunque potrebbe pensare di scrivere una storia, magari fantascientifica, che riguarda la fisica quantistica, anche se quella persona non è un fisico quantistico, ma semplicemente imparando, documentandosi e padroneggiando, almeno fino a una certa misura, quell'argomento. Quindi ci sono queste due interpretazioni diverse e vorrei affrontarle entrambe, perché in realtà entrambe ancora sono meno banali di quanto appaiono e le differenze sono più profonde di quanto appaiono di primo acchito. Tornando quindi alla prima definizione, cioè in realtà questo vale per entrambe. In qualsiasi modo la si pensi, che uno debba semplicemente documentarsi o che uno debba semplicemente basarsi sul suo curriculum per scrivere di ciò che conosce, questa cosa, questo adagio ha un senso oggettivo e come ho detto prima è normale che venga impartito ai nuovi scrittori o comunque che ne parlino, gli insegnanti di scrittura cattiva eccetera, perché è chiaro che si vede spesso per esempio per gente peccare di mancanza di informazioni. Cioè il primo errore che commettono gli autori alle prime armi lo vediamo spessissimo nei gialli per esempio, è un classico perché poi i gialli presuppongono un certo tipo di informazione e di conoscenza che non tutti hanno. Per esempio quando si parla di poliziesco è chiaro che l'autore deve comunque conoscere certe meccaniche, deve conoscere, deve avere certe informazioni relative alle forze di polizia, come si muovono, a come interagiscono tra di loro, alla logistica, all'organizzazione, al modo in cui combattono il crimine proprio materialmente. E non tutti hanno queste informazioni, alcune di queste informazioni sono estremamente travisate, ci sono tantissimi polizieschi come film o anche come romanzi che sono pieni di errori, strafalcioni ridicoli riguardo a questi argomenti qui. È altrettanto vero che poi ci sono dei polizieschi invece che trattano questa materia con molto più realismo, con molto più dettaglio e con molto più padronanza. E questo si vede. Si vede quando per esempio in un romanzo, in un film, l'argomento che viene trattato è conosciuto a un livello profondo e viene appunto trasmesso poi al lettore con altrettanta profondità, ma anche semplicità, perché una persona che conosce profondamente un argomento è anche in grado di trasmetterlo a chi appunto è un profano, comunque a chi si approccia facilmente, cioè con abilità, con destrezza, perché è qualcosa che maneggia quotidianamente, no? È normale. E magari anche inserendo comunque aggiungendo una serie di dettagli inusuali e interessanti che invece una persona che non conosce altrettanto bene quell'argomento, che non padroneggia quell'argomento altrettanto bene, non riuscirebbe a inserire. È chiaro. E questo è tipico dei film, soprattutto di certi film americani, hollywoodiani, per esempio nelle ambientazioni, la cosiddetta ambientazione standard, che ci sono magari quelle stanze oppure quelle strade, comunque quelle scene, quelle case, che sono praticamente una fusione di stereotipi, un remix di stereotipi, prive di dettagli interessanti o inusuali, normali. Ecco, la normalità è qualcosa che non attiene alla realtà, questo lo sanno tutti, nessuno è veramente normale, perché tutti poi vai a scavare, vai a conoscere davvero una persona, tutti, anche quella che sembra più banale, ha un sacco di cose grevi dentro di sé, cioè magari che l'accompagnano, che la perseguitano, ossessioni, pensieri, paure, desideri, che la rendono unica, fisime, modi di vedere la vita, ognuno ha un modo di vedere la vita diverso, anche se non sembra. È altrettanto vero però che poi, nei fatti, quando si manifesta l'identità di una persona nel comportamento di quella persona, nelle azioni di quella persona, magari si comporta in modo normale, cioè si comporta come fanno tutti, o comunque la maggioranza, no? E quindi è per questo che poi un'ambientazione viene trasmessa, magari in un romanzo, in un film come ambientazione standard, cioè ambientazione senza dettagli, concreti, un'ambientazione qualunque, anche se non ne esistono, magari una stanza qualunque, una casa qualunque, una facciata di una casa qualunque, una strada qualunque, vuota, come se non avesse cose da notare, come se non avesse una vera identità, come se non fosse reale, però funziona lo stesso, tra virgolette, funziona perché in realtà non funziona altrettanto bene, ma svolge il suo compito basilare, no? Di essere semplicemente quel posticino, quel luogo normale in cui avvengono determinate cose, senza che sia importante il luogo in sé o il dettaglio, la cura che c'è in quel luogo, no? Per come viene descritto, per come viene mostrato. E ovviamente questo è un errore, quando si scrive bisogna essere realistici anche nelle ambientazioni, anzi in particolare, nelle ambientazioni che vengono descritte, anche se magari il personaggio vale nota, cioè se il personaggio magari è abituato a quel tipo di ambientazione, si potrebbe pensare, possiamo semplicemente non descriverla, come fanno molti autori, per togliersi dal problema, ma facendo così comunque, anche se ha senso, da un punto di vista, di punto di vista, per l'appunto, perché il personaggio conosce a meno di tutto la stanza, non nota i dettagli, è altrettanto vero che il lettore non immagina un cavolo, perché il lettore non la conosce la stanza, anche se il personaggio la conosce, quindi bisogna trovare un mezzuccio, un trucco, bisogna trovare un modo per riuscire a mostrare, per far vedere al lettore l'ambientazione, anche se questa ambientazione è come se fosse in sovrappensiero, come se fosse in sottofondo, come se fosse un'ambientazione standard per il personaggio. Questo è comunque un altro problema che poi si ricollega con il mostrando a raccontare, di cui già abbiamo parlato in un altro video e in articoli vari. Tornando all'argomento, c'è un autore che è famoso per questo, Dan Brown, ha scritto tanti romanzi che hanno avuto un grande successo e tutto il resto ci hanno fatto film, eccetera, ma sono pieni di strafaccioni, addirittura diventato una meme per gli strafaccioni di cui sono pieni questi romanzi, a livello storico, a livello di ambientazione in se stessa, proprio a livello di interazione tra i personaggi, è un concerto di strafalcioni. Chiaramente se una personale nota, la sospensione dell'incredudità accade, non ci si fida più dell'autore, non ci si fida più del romanzo, si rompe il velo della simulazione della realtà che è il romanzo, che è la storia. Uno si rende conto, è chiaro che già lo sa, ma legge con mente critica, ancora più critica, ciò che succede successivamente e con quella disposizione indisponente che ha una persona quando ha visto che le cose non sono come dovrebbero essere, no? E pregiudicando poi tutto il resto della storia, pregiudicando anche ciò che pensa dell'autore stesso, che ha perso la sua influenza sul lettore, no? La sua autorità. Quindi è importante comunque sempre sapere ciò di cui si parla. Del resto, stesso Hemingway, l'ho già spiegato in altri articoli e video, eccetera, impiegava questa tecnica, la teoria dell'iceberg, secondo la quale per l'appunto lui, con una conoscenza, con una padronanza dell'argomento molto molto approfondita, riusciva poi a dipingere quella, quella, magari quella, quella ambientazione, oppure la descrizione, il personaggio, qualsiasi cosa fosse, riusciva a dipingerla con pochi elementi, ma quei pochi elementi, ma quei pochi elementi erano così fondamentali, erano così evocativi, che erano in grado poi di implicare tutto il resto. Perciò la teoria dell'iceberg, perché la parte sottostante dell'iceberg, che mi pare sia 8 a 1 il rapporto, comunque la parte sottostante dell'iceberg non ha alcuna importanza, ma la matematica, che è la stragrande maggior parte dell'iceberg, è ciò che l'autore sa, ma che non mostra. La parte superiore è ciò che il lettore vede, perché è ciò che l'autore mostra, ma che è in grado poi di implicare quello che c'è sotto, perché il lettore sa che c'è l'iceberg, metaforicamente sa poi che il personaggio è magari così, o la descrizione, o l'ambientazione è ecco lì, e così via. Quindi con quei pochi elementi si riesce a implicare tutto il resto. E questo lo puoi raggiungere solo se conosci bene l'argomento. Ma il punto della questione, il punto del video, non è tanto questo che è ovvio. È ovvio che bisogna informarsi, è ovvio che bisogna documentarsi tantissimo quando si scrive e bisogna documentarsi per qualsiasi cosa. Ma adesso il punto è, bisogna documentarsi oppure bisogna lasciar perdere perché magari la cosa di cui vogliamo parlare non ci appartiene, perché magari la cosa di cui vogliamo parlare non la conosciamo abbastanza, non fa parte della nostra vita, magari non potremo mai concorrere effettivamente con un esperto del settore, oppure è probabile che faremo storcere il naso a chi ne capisce più di noi quando leggerà ciò che abbiamo scritto. Quindi diciamo andando ai teorici pro della regola secondo la prima interpretazione, cioè quella che hanno la maggior parte delle persone, cioè quella del curriculum fondamentalmente, già abbiamo visto alcune cose che condivide con la seconda interpretazione ovviamente, alcuni pro che sono ovvi. Adesso andiamo a vedere invece alcuni pro che sono esclusivi a questa interpretazione. Per esempio parlavamo di autorità sul lettore, questo è fondamentale quando si scrive come autori. Quando tu scrivi, quando scriviamo un romanzo e riusciamo a trattare un determinato argomento per bene e riusciamo a fare determinate descrizioni con molta vividezza e molto realismo, nel momento in cui il lettore legge, ci dà retta. È praticamente una cosa inconscia. Legge come se fosse convinto di quello che abbiamo scritto. Magari abbiamo scritto un sacco di cazzate, ma il lettore legge come se fosse vero, perché magari lui non sa che sono cazzate, oppure magari non abbiamo scritto cazzate, lo spero. Però appunto quello che abbiamo scritto è così verosimile, è così dettagliato, è così realistico che il lettore è convinto di quello che abbiamo scritto. Questo finché poi non capita la cosa che non deve mai capitare, che magari il lettore scopre essere falso ciò che abbiamo scritto, per esempio. Oppure già lo sa, che ne so, magari abbiamo scritto che a Napoli nevica tutti gli inverni o cose del genere, cosa che non è vera in abbondanza o cose del genere. è chiaro che chi ci ha mai abitato sa che non è così, è già un bel problema che si crea. E quindi l'autorità sul lettore viene, in quel caso, viene meno. Altrimenti, con una buona scrittura, con una scrittura dettagliata appunto, che fa padrona della materia di cui tratta, questa autorità è, come ho detto, immediata, inconscia, viene costruita mano a mano che il lettore legge e poi si riflette sull'autore stesso, cioè il lettore si convince magari che quell'autore ne sa. Per esempio, un romanzo che parla di guerra, il lettore rifletterà la profondità dell'argomento, della trattazione sull'autore nel momento in cui finirà il libro e penserà che quell'autore ne sa sulla guerra e magari vorrà leggere altri libri dell'autore sull'argomento. Questa autorità è fondamentale infatti poi per costruirsi un pubblico come autore, perché quel pubblico magari si fida di quell'autore, sa che quell'autore è bravo a scrivere, sa che quell'autore è bravo a descrivere, sa che quell'autore è bravo nel trattare certi argomenti filosofici o magari è molto bravo a trattare certi argomenti reali, magari scientifici, che ne so. E questa autorità è chiaro che non ha rilevanza che l'autore sia un esperto del campo oppure no nel momento in cui il lettore ha finito di leggere il libro, perché il libro ha parlato da solo. Però prima che il lettore legga il libro, allora sì che ha importanza, ecco perché c'è già la prima differenza. Se parliamo di curriculum è chiaro che la persona media, che è stupida e ha pregiudizi e così via, però ha senso benissimo pensarla in questo modo anche dal punto di vista del lettore, è chiaro che il lettore medio sarà più disposto verso un autore di fantascienza che scrive un romanzo che si basa sulla fisica quantistica, se quell'autore di fantascienza è un fisico quantistico. Oppure è chiaro che un autore sarà più, scusate, che un lettore sarà magari più ben disposto a leggere il romanzo, magari un romanzo rosa di una psicologa della vita di coppia rispetto a un angel, non lo so, a un uomo che non è mai stata come una donna nella sua vita. Per esempio, è chiaro, in realtà l'autorità funziona sempre, in tutti i sensi. Cioè, chiunque sarebbe, o comunque, la maggior parte delle persone sarebbero più disposti a leggere il romanzo di fantascienza, di uno scienziato, rispetto al romanzo di fantascienza scritto da uno studente, del liceo, è chiaro. In generale, una persona è molto più disposta ad ascoltare, su praticamente qualsiasi argomento, una persona che ha un'autorità conferitole dalla società, per esempio forse dell'ordine, oppure politici, eccetera, 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 rispetto a uno sfigato, qualsiasi. Funziona così, l'autorità funziona sempre, in qualsiasi campo, in realtà, quindi ti dà sempre quel vantaggio. Indipendentemente poi dal campo, è chiaro però, a maggior ragione, che se parliamo di un campo specifico, un'autorità di quel campo, è ovvio che riceverà molte più attenzioni da persone interessate a quell'argomento che si approcciano a letture di quell'argomento. Per esempio, anche quando si parla di narrativa, è chiaro, perché la narrativa comunque non è saggistica, ma comunque tratta argomenti, anzi, probabilmente, l'insegna anche meglio, proprio perché lo fa attraverso delle storie, delle avventure, dei vissuti, no? E quindi è diverso dalla spiegazione che può dare un saggio. È il motivo per cui molte persone amano leggere i romanzi storici, per esempio, molte persone che leggono romanzi storici preferiscono leggere romanzi storici scritti da storici. Adesso, però, questa cosa deve pregiudicare lo sforzo di uno scrittore, sì o no? E qua dipende da cosa vogliamo noi, nel senso, se lo scrittore alle prime armi si deve porre il problema, io ho fatto questi studi, allora dovrei parlare di questo, oppure io non ho fatto nessuno studio, di che cacchio devo parlare, oppure io ho queste passioni, dovrei parlare di questo e non dovrei parlare di quell'altro. Ha senso che si preoccupi di questo? Abbiamo già detto che l'autorità funziona sempre a prescindere, quindi c'è anche questo da dire, ancora di più, se le persone sono in uno stato di inferiorità rispetto a noi. Lo avrà notato chiunque abbia avuto a che fare, che ne so, con dottori, con persone insomma di un certo prestigio, che hanno avuto magari compiti importanti, presidenti di associazioni oppure di società, CEO, eccetera, eccetera. Queste persone esercitano un'influenza enorme su chi è sotto di loro soprattutto. Cioè la persona che è in inferiorità si sente affascinata, sedotta dall'autorità di chi è sopra di lei a livello gerarchico, a tal punto da spingerla a fare le cose anche più ridicole. Si possono vedere delle lecchinate, dei comportamenti da vermi che non ci si aspetterebbe mai, anche dalle persone più normali. È un meccanismo psicologico purtroppo normale che comporta poi questo. Questo ha un enorme effetto, penso che questo abbia ancora più effetto rispetto al discorso che abbiamo appena fatto, perché un autore alle prime armi che pubblica un libro ha molte poche probabilità di vendere quel libro in buon numero, appunto. Già ha molte, molte, molte poche probabilità di essere preso in considerazione da un editore free, da un piccolo editore free. Poi una volta pubblicato di venderle in buon numero ancora meno. Adesso se quella persona è un esperto di un campo e parla di qualcosa di quel campo, quelle probabilità saranno un po' più alte. Saranno un po' più alte di vendere, saranno più alte di essere preso sul serio. Anche questo è importante. Il curriculum conta anche per l'editore, perché l'editore sa che quella persona ha più probabilità di vendere e immagina che quella persona abbia più probabilità di scrivere meglio, nel senso di trattare meglio l'argomento di un profano. Però, se ci pensate, in realtà queste probabilità sono molto più alte in generale se quella persona ha autorità in assoluto per il tipo di mercato di cui stiamo parlando. Cioè stiamo parlando comunque di delle dimensioni, di uno spostamento di merce praticamente comunque molto limitato. 100 copie, 200 copie, dipende dalla tiratura poi. Se parliamo di una piccola casa editrice, non penso che sarà, se parliamo poi della prima pubblicazione, magari 100 copie, magari 200, 500, non lo so. Comunque non più di questo se parliamo di prime pubblicazioni di una piccola casa editrice. È chiaro che praticamente uno psicologo affermato, oppure un professore universitario importante con un certo seguito, quelle copie le vende ai suoi studenti, è già risolto, già fatto. L'influenza diretta dell'autorità in questo caso supera di gran lunga l'influenza che può avere l'autorità su un pubblico di persone che neanche conosce l'autore che emana questa autorità. Quindi in realtà lo psicologo di fama, il professore universitario affermato potrebbe scrivere un libro in cui tutte le pagine sono ciao 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 e ciao e vendere lo stesso numero di copie ai suoi sottoposti, chiamiamoli così, alle persone che sono succubi della sua autorità. Il prodotto non dico che è completamente ininfluente, però non è quello a contare, è semplicemente il potere dell'autorità. D'altro canto noi tutti vorremmo essere, senza faticare, è chiaro, psicologi affermati o professori universitari di fama, ma non lo siamo, quindi o almeno io non lo sono. Poi probabilmente qualcuno di quelli che mi guarderanno lo sarà o non lo sarà. Chi non lo è è inutile che si faccia questi problemi a mio avviso perché è infinitesimale praticamente l'importanza di tutto ciò. In generale in realtà lo sono anche le vendite, cioè paradossalmente le 500 copie vendute dallo psicologo affermato comunque non saranno un cavolo a livello economico rispetto a ciò che lui guadagna normalmente. Ho capito? Quindi io direi proprio che non è importante questo, il curriculum. L'autorità si dovrebbe costruire proprio col contenuto del romanzo, non col pregiudizio. È chiaro che appunto non sto dicendo che ciò non accade, anzi tutto quello che ho detto finora era proprio per affermare, per provare che è vero quanto viene detto spesso, ma che alla fine della fiera non ha davvero importanza. Perché comunque noi siamo piccoli, perché comunque stiamo parlando di spiccioli, perché comunque l'autorità in qualsiasi modo la si guardi è schiacciante e il prodotto in sé non è rilevante ai fini dell'autorità, quindi perché farne un problema. Detto ciò invece è una cosa un pochino più interessante riguarda la comunicazione, cioè è più facile comunicare l'essenza di un prodotto, nel caso ovviamente di un romanzo, l'argomento del romanzo, se a livello di curriculum noi siamo degli esperti di quel romanzo. Perché in realtà c'è sempre il pregiudizio dietro questa affermazione che vede l'esperto dell'argomento che padroneggiare meglio l'argomento di quello che non è esperto dell'argomento. È chiaro che però se l'autore che ha scritto il romanzo si è documentato tanto, tanto, tanto e bene, 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 anche lui sarà molto bravo a comunicarne l'essenza, è chiaro? Anzi potrebbe perfino essere più bravo, è chiaro che le probabilità sono minori, però quello che conta non è questo, non è tanto questo, ma è la disposizione dell'ascoltatore. Proprio come l'ascoltatore, il fruitore, è più disposto a leggere il libro dell'esperto, l'ascoltatore è più disposto ad ascoltare le parole dell'esperto che cercano di convincerlo nell'acquisto del libro, che cercano di trasmettere l'essenza del libro, eccetera. Quindi è anche più facile per lo psicologo affermato, anzi in questo caso è la competenza, diciamo, specifica ancora meglio, quindi è più facile per il fisico quantistico, anche se magari non capisce un cavolo di fisica quantistica, trovare nell'ascoltatore interesse, accettazione, quando gli vuole comunicare del proprio libro, o dell'essenza del proprio libro, della trama e così via, rispetto a una persona che magari fa il fabbro, ok, e si presenta come tale e propone all'ascoltatore il proprio libro di fisica quantistica, il proprio romanzo fantascientifico di fisica quantistica. Il pregiudizio dell'ascoltatore sarà sempre lo stesso che abbiamo visto prima. Anche questo però non è che sia un vero problema, perché preoccuparsi del fatto che magari in un'eventuale fiera il pubblico possa darci un po' più di corda, perché noi magari ci siamo distrutti di anni di università, eccetera eccetera, non lo so, mi sembra così, anche questo è rilevante rispetto poi al percorso che si deve fare, se si vuole veramente andare a parare da qualche parte quando si scrive, ma soprattutto per trovarsi un pubblico, perché alla fine è per questo che si fa, certo non per diventare ricchi, ne abbiamo già parlato, ma non c'è neanche bisogno di parlarne, lo sa chiunque abbia un minimo di conoscenza dell'editoria, insomma del campo, che l'aspetto economico è l'ultima cosa della vendita del libro, cioè della gavetta dello scrittore, ok? E anche se arriva, non arriva nei fatti, perché comunque non è abbastanza, cioè a campare di scrittura perfino tra gli scrittori famosi sono pochi in Italia, solo di scrittura intendo, anzi, ecco, questa è una cosa interessante fare un raffronto in questo senso, perché molti di questi scrittori, molti degli scrittori famosi in Italia comunque prima di essere scrittori sono dottori, sono professori, eccetera eccetera, quindi a maggior ragione l'autorità è sempre la forza più schiacciante, quindi questo è un po' la visione del scrivito di ciò che conosci dal punto di vista di chi lo definisce come curriculum, cioè come qualcosa che padroneggi tu per lavoro, per esperienza e non di cui puoi imparare invece autonomamente. Già ho praticamente contestato tutti i punti a favore della questione, già li ho contestati parlandone, però vorrei aggiungere un paio di cose. Prima di tutto che questa impostazione secondo me è molto sbagliata anche perché toglie uno dei più grandi piaceri della lettura e della scrittura che è quello della scoperta fondamentalmente, ne ho già parlato nel video sul perché scrivere, per quanto mi riguarda mi ucciderebbe proprio o cioè mi impedirebbe proprio di essere felice scrivendo, cioè il fatto di scoprire cose nuove e di documentarsi, è forse la parte più bella della scrittura per alcune persone come per me, di vivere queste cose nuove, queste nuove esperienze eccetera eccetera, è una delle cose più belle. Quindi l'idea di impedire che gli scrittori facciano questo mi sembra assurda, mi sembra deleteria anche a livello psicologico, personale, cioè del resto anche per esempio Salgari che avevo citato in quel video non avrebbe mai scritto nulla di quello che ha scritto se fosse così, lui che non era stato nemmeno in tutti quei posti, però si documentava tanto, si documentava tanto in biblioteca e questo ha dato i suoi frutti e non solo ha dato i suoi frutti ma era ciò che lo spingeva a scrivere alla fine, il fatto di riuscire a viaggiare senza la seccatura dei bagagli lui diceva no, come ho detto in quel video. Quindi il piacere della scoperta è una parte integrante dell'esperienza della scrittura da parte di chi scrive, non di chi legge, ma anche per chi legge, fare esperienza di nuove vite, di nuovi vissuti, di nuovi concetti eccetera eccetera. Quindi perché il lettore deve poterlo fare, io che scrivo non devo poterlo fare? A questo punto parlerei solo di me stesso e qui infatti ci colleghiamo ad un altro punto. Molti scrittori che evidentemente applicano questa cosa che comunque sono così autoreferenziali da farlo inconsciamente, scrivono solo di se stessi, scrivono sempre solo dello stesso tema, degli stessi argomenti e sempre solo in relazione a se stessi. Mi riferisco per esempio a Bunker, per esempio, oppure a Drew la Rochelle, mi viene in mente, in cui praticamente tutti i romanzi di Drew la Rochelle parlano di lui, fondamentalmente così. C'è qualche eccezione e ovviamente quelli più riusciti sono tutti competizioni tra di loro, quelli più riusciti pregiudicano la lettura degli altri e sono assolutamente inutili. E lo stesso potrei dire di Bunker che parla comunque degli stessi temi, degli stessi argomenti. Certo ci sono sfumature diverse, un romanzo è più autobiografico di un altro, Educazione di una canaglia è proprio strettamente autobiografico se non sbaglio, adesso neanche ricordo. Comunque non dico che è letto uno, letti tutti, però questo è molto limitante per uno scrittore e anche per la qualità della sua produzione effettivamente. Cioè io come lettore, perché dovrei, cioè è chiaro che magari se proprio amo ciò che ha scritto lo scrittore, magari amo lo scrittore per i suoi pensieri, leggerò tutto quello che ha scritto lo scrittore, se lo scrittore riversa tutto ciò nel suo libro. Però le esperienze che avrò saranno più o meno quelle, quindi in tutti i libri che leggerò di quello scrittore, è come il caso di Drew la Rochelle, io alla fine amo Drew la Rochelle, ho letto quasi tutto quello che ha scritto, ho letto un sacco di cose che ha scritto, alla fine della fiera, gli unici, perché mi piace tanto, perché lo trovo geniale soprattutto nelle sue introspezioni, nelle sue riflessioni, nelle sue idee, però alla fine della fiera i libri che mi sono rimasti impressi sono quelli che semplicemente sono superiori agli altri, perché poi sono tutti più o meno nello stesso alveo, questo è. E gli unici memorabili sono appunto quelli, gli altri li potrebbero bruciare in un caminetto, anche se li ho letti volentieri, così funziona. Quindi secondo me questa è una grave trappola di chi pensa che bisogna solo scrivere in base al curriculum, invece di documentarsi ed esplorare nuove realtà. Un autore per esempio che amo, che fa l'esatto contrario, è Silverberg, c'è un motivo per cui è probabilmente l'autore che ho più recensito sul blog, e il motivo è che è estremamente eclettico, ma è bravissimo a dissimulare. E questo è il bello, secondo me è questo che rende grande uno scrittore, cioè il fatto che riesca a convincerti di conoscere benissimo un dato argomento, al punto tale da parlarne come un esperto, da fartici riflettere davvero, da fartici entrare davvero, nonostante non abbia nessuna reale esperienza di quell'argomento. Silverberg ha trattato di tutto, inclusa ricerca storica, eccetera, a livelli eccezionali, Gilgamesh, il suo Gilgamesh per me è il top assoluto, è proprio un imbroione, perché nel momento in cui leggi Gilgamesh tu credi che sia uno che veramente se ne intende di società sumera, di mitologia, però invece, certo, sicuramente era un suo interesse, ma è chiaro che non fa parte, non faceva parte davvero della sua storia personale, dato che ha scritto poi tutt'altro, no? Nella sua vita. E lo stesso si può dire della fantascienza di Silverberg, che a volte se ne usciva con certi dettagli scientifici che da hard sci-fi che mi hanno fatto un attimo traballare, ha detto, ma quando lui è, diciamo, il suo modo di scrivere fantascienza è molto più improntato all'introspezione, alla psicologia, alla società, no? Questa è la grandezza di Silverberg, secondo me, è di un grande, veramente un grande, un grande autore, cioè un autore veramente bravo, che riesce veramente a ingannarti e senza poi, senza, insomma, approfondire l'argomento, perché poi se ne potrei dire di Silverberg che riesce sempre a farti pensare, che riesce sempre a trattare grandi temi, bla bla bla, non ne parliamo, però l'esempio era per questo motivo. Per fare un piccolo paragone con me stesso, mi ricordo una volta che ho fatto una presentazione di un libro che ho pubblicato e dopo che avevo esposto chiaramente i temi del libro e così via, una persona mi ha detto ma sei uno psicologo? Perché quello che hai detto fa proprio parte dei miei studi, insomma hai detto tutte cose che ho studiato, che ho affrontato, che maneggio, insomma, che padroneggio quotidianamente nel mio lavoro, perché questa persona è una psicologa, io ho detto no, veramente no, semplicemente mi sono dovuto documentare un po' su questo, questo e quest'altro da autodidatta, diciamo, e questo mi ha portato a sviluppare determinate tematiche in questo modo e lei non ci credeva, pensava che non fosse vero e allo stesso modo pure un'altra persona mi ha detto ma come mai sai queste cose, ma che vuol dire? Cioè come se una persona non potesse documentarsi, perché questo è il bello, cioè le persone, la media delle persone non riesce a immaginare che qualcuno possa davvero documentarsi a punto tale da ingannarla, la persona media non riesce neanche a concepire di essere ingannata, invece è particolarmente facile, io non sono affatto un grande scrittore e questo libro, non ancora lo voglio diventare, però questo libro in particolare poi di qualche anno fa non è neanche il top del top che ho scritto, cioè ho scritto di meglio, l'ultimo che ho pubblicato è il migliore che ho scritto finora secondo me, però comunque insomma alcune persone mi hanno fatto questi commenti e pure per quest'ultimo una persona mi ha detto ma ti sei dovuto, mamma mia c'è parecchia ricerca in questo libro, ti sei dovuto documentare parecchio e mi sono messo a ridere, cioè è ovvio che quando scrivi ti devi documentare, ma queste persone neanche lo immaginano che sia così, è questo però quello che vogliamo noi come autori, cioè noi vogliamo documentarci al punto tale da far, questa persona mi conosceva quindi sapeva che mi era documentato e non che partivo da degli studi e questo è il bello come dicevo che il lettore deve pensare che tu sei un'autorità sull'argomento e è chiaro che non funziona sempre, non funziona con tutti, nel senso che c'è sempre chi è più esperto di te, anche questo secondo me è un argomento che può, un'argomentazione che può andare contro la versione diciamo del, scrivi di ciò che conosci del curriculum perché pensare che se sei un esperto del campo la tua autorità sottomette automaticamente chi ti legge e pensano appunto che tu abbia competenza in base al tuo curriculum, cosa anche più probabile quando scrivi, è vero, però è altrettanto vero che c'è sempre chi è più esperto di te, sia a livello proprio di argomenti e quindi magari ti sgavano per questo, sia a livello di autorità, cioè c'è sempre chi sopra di te anche a livello di curriculum e quella persona che è più alto di te a livello di curriculum probabilmente non si lascia influenzare dal tuo curriculum, quindi dall'aura di autorità che emani ma anzi potrebbe anche trovare un po' di, un po' stuzzicante cercare il pelo nell'uovo paradossalmente gli esperti, 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 cioè le persone più esperte di un argomento sono anche le persone più stupide, questo lo so che potrà far storcere il naso quando lo dico, però è così perché le persone che sono completamente fissate su un dato argomento, che dedicano la vita a quell'argomento, che non spaziano e che non collegano gli argomenti i cosiddetti esperti per l'appunto, spesso e volentieri sono così, impantanati in quell'argomento che cominciano, che potrebbero fare i puntini, che potrebbero fare le pulci su qualsiasi cosa che riguardi quell'argomento, anche se in realtà non dovrebbero farlo, anche se in realtà è accettabile il livello con cui ne hai parlato, capita, capiterà, anche se siete esperti o anche se non lo siete, qualcuno vi sgamera se non lo siete e qualcuno se lo siete comunque vi farà le pulci, soprattutto questo tipo di persone qua, i super esperti, quelli che vivono di questo, perché del resto è la loro vita, se la loro vita è questo non potranno che avere una concezione delle cose molto 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 ridotta e poco organica eccetera eccetera. Quindi secondo me l'approccio migliore è quell'altro, cioè conosci ciò di cui parli e non conosci ciò di cui scrivi e non scrivi ciò di cui conosci, non scrivi ciò che conosci perché come abbiamo detto alla fine l'importante è sapersi documentare, anche magari in ambienti in generi che uno non penserebbe, che uno non riterrebbe oggetto di documentazione come per esempio il genere fantastico. A livello narrativo molte persone scrivono fantasy, si buttano, inventano draghi, cose, magie eccetera eccetera senza dare nessun senso, senza fare nessuna ricerca, senza fare... quale ricerca dovrebbe fare una persona che inventa un mondo fantastico? Invece ne dovrebbe fare come? Molte persone scrivono fantasy pensando perché fantasy posso fare quello che voglio, ma invece non è così, perché comunque anche se noi inventiamo un mondo fantastico dobbiamo comunque convincere il lettore della realtà di ciò che abbiamo inventato, altrimenti che regge a fare? Altrimenti è come se appunto fosse un castello di carta e di carte e quindi se vogliamo inventare un mondo fantastico fatto bene, prima di tutto dobbiamo organizzarlo bene, cioè deve esserci una coerenza interna perfetta, tutti gli elementi devono essere organizzati per bene a livello gerarchico eccetera eccetera, il sistema magico deve essere ben sviluppato, deve essere complesso eccetera eccetera, anche se non è hard magic comunque deve essere ben fatto, deve essere verosimile e così via, verosimile anche se fantasy deve essere verosimile all'interno della storia, perché del vero all'interno della storia, come diceva Booth. e oltre a questo però, se vogliamo scrivere un buon fantasy, noi comunque dobbiamo aggrapparci alla realtà, noi comunque dobbiamo fare riferimento alla realtà, noi comunque dobbiamo documentarci studiando la realtà, perché il fantasy comunque sia parte della realtà, tutto parte dalla realtà, anche il fantastico, tutto. Il fantastico l'abbiamo già detto, l'ho già detto anche in altre sedi, è comunque un rimaneggiamento della realtà, ovviamente a livello surreale, onirico, nella mente del lettore, come volete voi, però comunque è un rimaneggiamento della realtà, sappiamo benissimo che Harry Potter non sarebbe mai esistito se la Rowling non fosse stata inglese, con tutti gli elementi di Inghilterra che ci sono dentro, oppure senza andare nell'urban praticamente, perché di quello si tratta in un certo senso. Se prendiamo Il Signore degli Anelli, gli Hobbit non sarebbero mai esistiti, la Contea non sarebbe mai esistita se Tolkien non avesse vissuto nelle campagne inglesi da piccolo. È chiaro che comunque tutti questi elementi, o anche tutto il resto, in realtà Il Signore degli Anelli che è preso dalla mitologia, eccetera, eccetera, no, sono comunque presi dalla realtà, tutto è preso dalla realtà, quindi bisogna studiare la realtà quando si parla di qualcosa. Se vogliamo mettere degli elementi mitologici nel nostro fantasy, dobbiamo studiare la realtà. Se vogliamo fare delle creature fantastiche, particolarmente interessanti, particolarmente realistiche, cioè del reale, sempre all'interno della storia, che il lettore venga colpito da queste creature, che si senta coinvolto, che sia veramente interessato a queste creature e si cali nella storia, in una storia in cui queste creature fanno parte, di cui questa creatura fanno parte, è chiaro che dobbiamo studiare queste creature in modo tale che siano appunto possibili, sempre nel mondo fantastico, magari per degli elementi magici o magari per degli elementi scientifici, perché no? Cioè magari per delle pressioni biologiche si sono sviluppate in un certo modo, con una biologia per l'appunto dettagliata, con un funzionamento dettagliato, con un'anatomia, non che sono delle gelatine che esistono perché sì. Quindi in realtà pure per i draghi ci sono ci sono comunque scrittori che quando parlano di draghi lo fanno in modo serio e quindi questi draghi magari si ricollegano ai draghi della mitologia per bene, questi scrittori si sono messi a leggere tutto ciò che concerne i draghi nella mitologia, oppure questi draghi sono particolarmente sviluppati, particolarmente bene dal punto di vista scientifico, magari riescono a volare perché hanno una struttura ossea studiata in modo impeccabile che le rende capaci di volare, di sputare fuoco, hanno magari qualcosa di particolare a livello magico che le permette loro di sputare fuoco, magari che ne so, hanno qualcosa dentro in gola che sprigiona le fiamme, ma non sono semplicemente draghi e basta. Cioè comunque c'è qualcosa, c'è uno studio, c'è una ricerca, c'è anche un'elaborazione di elementi reali e di elementi fantastici. Quindi comunque la documentazione è tutto sempre. Ci ho detto, ho detto conosci ciò di cui scrivi, perché tutto si può imparare, abbiamo visto, e secondo me è una cosa ancora più interessante, un adagio ancora più importante, ancora più utile di questo, sarebbe rendilo personale, make it personal. Secondo me rendere personale ciò che scrivi è ancora meglio, perché se tu scrivi qualcosa e non conosci minimamente la cosa di cui parli, abbiamo detto ti documenti. Però se ti documenti su quella cosa, ma ti sei solo documentato, ma non te ne sei appropriato, allora secondo me per quanto possa essere approfondito lo studio che hai fatto rimarrà comunque uno studio abbastanza superficiale. Sia superficiale lo studio in sé e il livello di dettaglio di ciò di cui parli, sia proprio l'interesse che desterà e l'importanza che avrà anche all'interno della storia. Renderlo personale invece, appropriarsene invece, già se gli dà un'identità molto più definita, nonostante magari non possa ambire a un livello di dettaglio tale da essere comparabile a quello di un esperto del settore, no? Anzi, questo può dare un aiuto. Per esempio, parlare, che ne so, della fisica quantistica in un romanzo di fantascienza, non devi per forza fare fantascienza hard. Magari vuoi esplorare le implicazioni di questo elemento fantascientifico che ha a che fare con la fisica quantistica, studi bene la fisica quantistica, però soprattutto cominci ad appropriartene nelle interpretazioni che dai a determinate cose, cose che poi gli scienziati non fanno fondamentalmente, perché lo fa chi fa divulgazione e rendi il romanzo molto più interessante magari di uno che è molto più matematico, perché è fatto da uno scienziato che si curava semplicemente del livello di dettaglio e di profondità della questione, della materia, però magari troppo settoriale, soprattutto poco interessante, poco personale. Per esempio, per fare un esempio, no? Come anche personaggi, magari rispecchiare persone che conosciamo, magari alcune cose che fanno rispecchiare il nostro vissuto e non essere personaggi inventati e basta. Magari per quanto ci siamo profusi nello studio psicologico di determinati tipi di personaggi, determinati traumi, ok? Però magari sempre renderli personali paragonandoli a noi stessi, paragonandoli a ciò di cui abbiamo esperienza, anche se magari non abbiamo esperienza diretta di quello di cui stiamo parlando, però paragonarle a nostre esperienze. Rendere personale, secondo me questa è la chiave per riuscire a creare un dettaglio che comunque possa suscitare convinzione, interesse e autorità in qualcuno, anche se magari il livello non è profondissimo come quello di un esperto del settore, ma non c'è bisogno di arrivare a quel livello, soprattutto per la persona media non c'è proprio bisogno in generale, quindi in realtà il problema neanche si pone a quel punto. Detto questo possiamo anche collegarci a un altro fatto, che comunque noi parliamo sempre di cose che non conosciamo, anche chi ha il curriculum più bello di questo mondo e scrive magari della cosa più safe di questo mondo, il fisico o quantistico, no, perché comunque non è mai safe, parliamo di qualcosa di molto più semplice, no? Magari un pescatore che parla di un pescatore, un pescatore che ha fatto il pescatore per tutta la sua vita, nella sua storia parla di un pescatore, della sua stessa zona, che cattura i suoi stessi pesci, della sua stessa età, ok? Andiamo proprio nel più safe possibile. Ecco, comunque quella persona dovrà parlare di un sacco di cose che non conosce, perché dovranno esserci altri personaggi, e mica lui è altre persone, no, lui non può essere altre persone l'autore, non può essere una donna, è chiaro che però conosce delle persone, conosce delle donne, eccetera, eccetera, quindi dovrà cercare di medesimarsi in quelle persone che non sono lui, che non padroneggia, che non fanno parte della sua identità, è chiaro, dovrà studiare quelle persone, narrare vuol dire creare una simulazione, e nella simulazione anche le altre persone fanno parte della simulazione, sono delle simulazioni di altre persone, quindi quelle persone non sono reali, e quelle persone non fanno parte del nostro curriculum se noi siamo esperti, quindi sono comunque cose che non conosciamo fondamentalmente. Nel momento in cui il personaggio fa un passo in un luogo che non conosciamo, dobbiamo documentarci su quel luogo. Tutte le esperienze di quel personaggio, è mai possibile che quel personaggio, che il protagonista, tutte le esperienze che abbia vissuto sono le nostre stesse esperienze, allora è chiaro che parliamo sempre della stessa cosa quando scriviamo, c'è sempre un romanzo autobiografico, è assurdo, è assurdo una cosa del genere, quindi per forza comunque qualcosa ci sarà da imparare, quindi bisogna sempre fare ricerche, sempre e il curriculum a questo punto non c'entra, non c'entra. Comunque penso che abbiamo parlato abbastanza dell'argomento, come al solito abbiamo esagerato, in questo caso non ho scritto un articolo su questo argomento, però secondo me era interessante parlarne, quindi vi ricordo di commentare, di mandarmi domande, eccetera. Nel mio coaching narrativo ancora parlo, chiaramente questa cosa la dico agli autori, scrivi di ciò che conosci, però con questo senso e faccio molto caso alle ricerche che fanno gli autori, molto caso, e mi capita spesso che degli autori improvvisino, l'improvvisazione è sempre sbagliata, sempre, e questo continuerò a martellarvi con questo, anche con spranghe e bastoni, perché è fondamentale che lo impariate, anche perché non bisogna prendere in giro i lettori, fondamentalmente. Comunque detto questo, ci vediamo la prossima volta, ciao!